E oggi la CISL Lombarda rilancia. Anche nella nostra regione i poveri aumentano, ma le risorse per aiutarli diminuiscono. Spesso le difficoltà sono legate alla perdita del lavoro, come in molti casi sostenuti dal Fondo Famiglia e della Diocesi di Milano. Fino al 2011 lavoravo in un'azienda che eroga formazione. L'ultimo anno avevo un contratto per una sostituzione a maternità, in quanto una collega era rimasta incinta. Dopodiché non hanno potuto rinnovare il contratto, anche con altri contratti a termine, in quanto non potevano anche loro colpiti da questa crisi che c'è. La vita di Cristina, 35 anni, ex impiegata, dall'anno scorso è cambiata. Quando anche suo marito Michele, operaio, ha perso il lavoro. Con una figlia di 9 anni e il mutuo di 500 euro al mese per la casa dove vivono a Pioltello, nel Milanese, non era più possibile andare avanti. Lavoravo, diciamo, come vigilanza e poi è finito il contratto e mi hanno lasciato a casa. Ho provato cooperative, interinali, ho provato un po' di tutto, ma solo truffe ci sono in giro. Alcuni annunci ti ricevano magari i magazziniere, poi con la macchina ti portavano a vendere fiori, di tutto. A settembre Cristina si è rivolta alla Caritas di Pioltello. Una volta alla settimana loro consegnano un sacchetto alimentare dove è comunque un aiuto. Sono state inserite in questo bando dove potrò seguire della formazione e comunque essere inserita nel mondo del lavoro. Solo a Pioltello ogni settimana la Caritas aiuta 600 famiglie con il pacco alimentare. Fra pochi giorni Cristina sarà chiamata a svolgere uno stagio, un tirocinio in un'azienda, riceverà un compenso mensile e soprattutto avrà la possibilità concreta di trovare un lavoro. Onestamente non ho pretese particolari per il lavoro, come credo sia per tutti alla fine, poter vivere in maniera dignitosa e tranquilla.